Per la quarta edizione, la seconda in piazza della sala e piazzetta dell'Ottaggio, torna Pistoia Immagine Moda. La serata, che sarà giovedì 20 settembre dalle ore 21, realizzata dal Centro Commerciale Naturale per la Regia dello Studio Mazzei, è dedicata alle nuove collezioni di abbigliamento, calzature e accessori, quest'anno con oltre 20 aziende a portare in passerella le loro creazioni. Ci saranno tre grosse novità, di cui due ragazzi giovani, io li chiamo Giovanni Zelari, che presenteranno la linea Frog, sono due giovani imprenditori di 17 e 19 anni che presenteranno la loro linea e anche un omaggio creativo a Pistoia Immagine Moda. Frog Tuscany è un brand che nasce nell'agosto del 2016 dall'idea di mia e di mio cugino, io allora avevo 16 anni, lui ne aveva 15, e negli anni si è sviluppata, adesso sono circa due anni che facciamo attività e fondamentalmente ci occupiamo di commercio al dettaglio, all'ingrosso, di abbigliamento e accessori. È un'occasione preziosa, ci siamo preparati, organizzati da tempo per questa sfilata che comunque raduna, sappiamo che raduna molti curiosi, migliaia di persone tutti gli anni e che partecipano anche dei negozi, i negozi più prestigiosi di Pistoia e della sala. C'è De Angelis, Valerio De Angelis che è uno stilista nativo di Pistoia però che sta a Roma, che presenterà delle sue creazioni. Io vorrei soffermarmi anche su tutto il corso del cast, quest'anno il Centro Comuniciale Naturale ha fatto un grandissimo sforzo perché abbiamo veramente quest'anno un cast stellare tra cui due personaggi, diciamo che ora sono la Cresta dell'Onda, due modelle, una che è la protagonista del video di Cremonini, di Cesare Cremonini e un'altra che è stata presa per Tempescio Island VIP e sarà protagonista anche di queste puntate sulle reti nazionali. Tutti i locali metteranno a disposizione anche dei menù particolari in abbinamento anche alla serata, quindi non dico non svelo quali sono le offerte perché ovviamente ogni locale avrà il suo lato. Però sì, per il secondo anno ospitiamo quello che è il mondo della moda, quindi l'inviso è di venire tutti. Ho visto che quest'anno ci sono stati addirittura anche altri negozi di abbinamento in più che hanno aderito all'iniziativa, quindi questo vuol dire che il messaggio di tendere la mano sta piano piano avendo il suo risultato. I negozianti hanno risposto molto bene a questa iniziativa perché comunque questa sfilata è l'unica fatta nel comparto sala durante l'anno e viene anche seguita molto bene per quanto riguarda scenografia, presentazione, luci, uscite. L'amministrazione è certamente soddisfatta di questo tipo di manifestazioni, soprattutto perché sono manifestazioni fatte bene, organizzate bene e che quindi non possono che portare benefici a chi le organizza ma anche a tutto quello che può essere un indotto e comunque risentirà sicuramente positivamente della serata. Grazie a tutti.